donna colpita da un mattone aggressione o gesto volontario e l'ambulanza si danneggia sradicando un cartello niente soccorso 25 aprile da pesaro a valle foglia tricolore di liberazione biblioteca e musei oliveriani compiono 230 anni vl e mav lanciano team a canestro buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro consueto appuntamento serale con l'informazione di rossini news telegiornale di questo mercoledì 26 aprile che apriamo occupandoci di cronaca questa mattina infatti una donna pesarese è stata trovata a terra insanguinata davanti a un'abitazione con una vistosa ferita alla testa causata da un mattone sul posto è sopraggiunta la polizia per indagare su una presunta aggressione che nel corso delle indagini poi si è rivelata un sospetto gesto autolesionistico della stessa donna come spieghiamo in questo nostro primo servizio mercoledì 26 aprile ci troviamo in via montenevoso zona tombaccia di pesaro dove questa mattina si è consumata una presunta aggressione ai danni di una donna di 55 anni donna che è stata trovata nell'altro dell'abitazione che vedete alle mie spalle è stata trovata con una vistosa ferita alla testa e un mattone vicino appunto al corpo trovato in stato di semi coscienza il tutto è avvenuto attorno all'8 un quarto 8 30 orario in cui alcuni vicini di casa hanno notato questa donna ferita un vicino di casa in particolare ci ha ricostruito quegli attimi concitati di inizio mattina ho visto poche parole la mia vicina di casa che abita qua che era fuori io mi sono baciato la finestra ho visto che c'erano tre persone qua davanti si vedevano appunto i piedi di questa signora che uscivano dall'ingresso dopodiché io sono sceso con con mia figlia mia figlia sta facendo la laurea infermieristica e ha fatto tre mesi e mezzo di 118 quindi col 118 arrivato ho dato anche lei una mano a poche parole con le prime cure dopodiché è arrivata una seconda ambulanza con un dottore hanno diagnosticato da quello che ho sentito un trauma cranico la signora ed è arrivata anche icro l'ambulanza che è atterrata qua dietro sulla statale lc sarebbero le iniziali di questa donna 55enne peserese residente in via postomo che a quanto pare lavorava come colf in questa abitazione che nella quale non erano presenti i residenti questa mattina sul posto la polizia per le indagini assieme anche alla polizia scientifica ricordiamo tra l'altro che tutto si è consumato a poche decine di metri dalla caserma dei carabinieri di via salvo d'acquisto forze dell'ordine che hanno anche requisito le immagini di video sorveglianza presenti nella zona per valutare appunto gli estremi di questa presunta aggressione presunta aggressione che però col passare delle ore si è trasformata in qualcosa di ben diverso il supplemento di indagini ha infatti appurato che la donna fosse sofferente di problemi psichici e a quanto pare potrebbe essersi colpita col mattone da sola in un delirante gesto auto lesionistico alle porte della casa dove prestava servizio al momento dunque non ci sarebbe nessuna caccia all'uomo ma le indagini continuano con il supporto chiarificatore delle immagini di video sorveglianza la donna è attualmente ricoverata all'ospedale torrette di ancona dove non risulterebbe in pericolo di vita ma far notizia questa mattina non è stata solo la donna ferita che vi abbiamo raccontato nel servizio appena andato in onda bensì anche le dinamiche di un soccorso alla donna rivelatosi piuttosto turbolento lo sconcertante episodio della donna trovata a terra insanguinata questa mattina davanti ad un'abitazione di via monte nevoso a causa di ferite alla testa procurate da un mattone ha avuto una modalità di soccorso estremamente turbolenta l'ambulanza intervenuta in zona tombaccia valutando la gravità delle ferite riportate ha infatti ritenuto necessaria la chiamata dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza al torrette di ancona l'eleambulanza è atterrata alle 9 nella strada statale adriatica non lontano dall'intersezione con via milano nello specifico è atterrata a due passi dal bar a roma di caffè nel piazzale di un'officina dismessa qui però la forza d'urto rotativa delle pale ha divelto e sradicato un pannello pericolante affisso alla parete dell'officina in questione si è creata una pericolosa centrifuga di pezzi di lamiera e frammenti metallici volati ovunque all'impazzata fortunatamente senza colpire nessuno il tutto fra lo stupore e lo spavento dei passanti pedoni e automobilisti in una delle zone dal traffico più congestionato della città è sceso l'elicottero io sono uscito per tirare sulla tenda perché me la stava portando via con l'elica forza di suvento qui ha risucchiato la tenda l'insegna del franco gomme e se l'ha tagliata tutti questi pezzi di lato ferro che sia li ha buttati verso la strada fortunatamente non c'era nessuno l'impatto dei frammenti metallici con eliche e rotori dell'elicottero ha però lasciato a terra l'eliambulanza che non ha potuto effettuare il soccorso delegato dunque all'ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale in codice rosso elicottero che è dovuto rimanere a terra per ore a causa delle doverose verifiche e accertamenti del caso sui danneggiamenti subiti dal mezzo I carabinieri di Montecchio hanno denunciato in stato di libertà un quarantenne di origini marocchine con numerosi precedenti penali ritenuto responsabile di furto aggravato nelle ultime settimane erano infatti arrivate denunce da parte di un 64enne a cui era stato rubato un cellulare e di una 32enne a cui era stata sottratta una borsa con contanti, documenti ed effetti personali Entrambi i denuncianti avevano dato un passaggio a uno sconosciuto rivelatosi il quarantenne in questione poi rintracciato dall'arma Ieri Rossini TV vi ha trasmesso in diretta le celebrazioni del 25 aprile del 78esimo anniversario della liberazione per quello che è stata la ricorrenza nella città di Pesero momenti che riviviamo attraverso le interviste ad alcune delle autorità presenti in questo 25 aprile La grande partecipazione di oggi ci impone questa riflessione sul 25 aprile ringrazio tutti i cittadini che oggi erano presenti qua, le cittadine e con le associazioni le autorità civili e militari con cui abbiamo festeggiato questa liberazione liberazione che nel suo 78esimo anno ma che anche quest'anno senza se, senza ma e senza però deve essere celebrata, celebrata perché è cardina della nostra democrazia ho fatto l'esempio di una bellissima finestra che si apre alla libertà e all'uguaglianza tenuta in piedi da questi cardini che sono l'antifascismo e la democrazia questi cardini spesso vengono messi in difficoltà da strumentalizzazioni, da ma però sì, mettere in condizione questa democrazia di vivere vuol dire tenere vivi quei cardini e tenere questa porta sempre aperta e chiusa e custodita quando necessario è un pilastro della nostra nazione, l'Italia si basa su due pilastri, il risorgimento e la lotta di liberazione e quindi è fondamentale continuare a festeggiarla perché combattere il fascismo, il nazifascismo e quei valori, quei disvalori dobbiamo continuare a farlo ogni giorno quando combattiamo il rassismo quando combattiamo coloro che vogliono con violenza colpire qualcun altro e quindi i valori della democrazia, della pace, dell'uguaglianza, della libertà sono i valori che grazie alla lotta di resistenza ci hanno consentito di crescere e vivere nel paese in cui viviamo quindi sempre grande gratitudine a coloro che ci hanno permesso tutto ciò ai partigiani, agli alleati, ai militari e alle forze dell'ordine che decisero di stare dalla parte giusta non dobbiamo mai dimenticarcelo perché se noi abbiamo avuto la fortuna di crescere in democrazia e libertà è grazie a queste migliaia e migliaia di persone Penso che sia, come ho detto, la responsabilità la responsabilità nelle scelte che si fanno tutti i giorni la scelta di ricordare la storia da cui veniamo ma anche la scelta di pensare un futuro che possa essere in linea con le persone che hanno dato la vita per quello che noi abbiamo adesso essere democratici, avere quello che abbiamo ora non è gratis comporta un'assunzione di responsabilità quotidiana nelle piccole e nelle grandi scelte che non è mai facile ma penso che sia la cosa più potente, più grande che si possa fare nel nostro piccolo abbiamo tantissime possibilità di azione ed è giusto e importante che ci prendiamo la responsabilità di scegliere Celebrazioni del 25 aprile anche per l'Unione Comuni Pian del Bruscolo dove per l'occasione ieri il cimitero degli alleati di Montecchio è stato sorvolato dallo spettacolo aereo del Fano Flight Team Vediamo 25 aprile in corteo anche a Vallefoglia che ha visto concludere la manifestazione con la testa rivolta verso il cielo il tricolore della Fly Fano Team pattuglia di volo in formazione ha infatti regalato a tutti i partecipanti uno spettacolo degno dell'importanza di questa storica ricorrenza sorvolando il monumentale cimitero di guerra dei caduti alleati di Montecchio che ha sigillato una giornata all'insegna di messaggi di pace democrazia e libertà Oggi celebriamo una giornata fondamentale per la nostra Italia per la nostra Repubblica la giornata, la festa della libertà una festa che va ricordata, che non va riscritta che è la festa di tutti perché ci ha regalato quella Costituzione di cui oggi conserviamo i valori e usufruiamo di quegli ideali dell'antifascismo che appunto ce l'hanno regalata questa è una giornata fondamentale da ricordare soprattutto per i giovani per quelli come me che non hanno vissuto la dittatura che non hanno vissuto il sacrificio di tanti per regalarci oggi quei diritti fondamentali la Repubblica, la democrazia e soprattutto la libertà di espressione che è un principio che non dobbiamo dimenticare e che dobbiamo onorare anche per il futuro Ancora oggi vediamo persone che imbracciano le armi e uccidono un proprio simile, un proprio fratello e quindi ci viene un po' anche la nostalgia e una tristezza perché capiamo che da una parte sì, celebriamo, ricordiamo cerchiamo di ricordare che non dobbiamo più vivere quei tragici momenti invece oggi, 2023, li stiamo vivendo parliamo sempre della guerra in Ucraina forse perché la più vicina è quella che ci coinvolge di più ma in realtà ci sono tantissime guerre nel mondo forse anche da noi le piccole guerre quotidiane invece è importante capire che la libertà non è fare quello che uno vuole c'è stato dato il dono della libertà ma libertà significa fare quello che uno vuole fino a quando non lede poi la libertà dell'altro si auguri alla morte si auguri alla morte l'Italia chiamò sì ed ora ci occupiamo di una delle più antiche istituzioni culturali della città di Pesaro la biblioteca e i musei oliveriani che compiono 230 anni di storia un compleanno che si terrà il 2 di maggio con un pomeriggio dedicato ad una cultura davvero senza età in quella data del 2 maggio che insomma cade il 230esimo compleanno della biblioteca dei musei oliveriani abbiamo pensato di segnalarla questa data di raccontarla tutta la città e di farlo con una festa come si fa solitamente nelle feste di compleanno non a caso infatti i protagonisti di questa giornata saranno i bambini i bambini che leggono i bambini che suonano e anche i bambini accompagnati dalle loro famiglie che vorranno partecipare alle attività e ai laboratori che sono stati organizzati nei pressi dell'ento di Vieri della biblioteca oliveriana e cioè alle capanne piccine di Via delle Galligherie e questa iniziativa è stata organizzata ovviamente da noi della biblioteca del museo oliveriani in stretta collaborazione con Pesaro Segreta che ormai è nostro partner per quello che riguarda proprio le organizzazioni di questa tipologia di eventi e quindi ci aspettiamo una bella festa anche con tanti invitati abbiamo anche così il patrocinio dei più importanti enti della città che si occupano di culture con cui noi collaboriamo regolarmente e quindi insomma ci aspettiamo che sia una bella festa con tanti partecipanti e tanta allegria è bellissimo collaborare con lui parlare del nostro passato parlare in chiave pop sempre una chiave che tutti possono arrivare a leggerla a capirla e questa volta per il compleanno abbiamo pensato proprio ai bambini ai bambini che leggeranno insieme alla grandissima Lucia Ferrati e poi a 30 bambini che suoneranno così dagli 8 ai 12-13 anni proprio orchestrati da Chiara sarà una cosa bellissima quindi 230 anni di storia di biblioteca e musei tramandati dai bambini cioè proprio sono loro la chiave per il nostro futuro per tramandare la cultura Pesaro piange la scomparsa di Roberto Cecchini ex consigliere comunale morto ieri all'età di 67 anni Cecchini è stato un professore molto stimato e amato da studenti e colleghi nonché presidente di quartiera Cattabrighe e Santa Maria delle Fabrecce l'associazione Gabice Futura e la fondazione Visit Gabice ci hanno presentato la terza edizione di Urbis Plantarum missione del progetto è stata quella di valorizzare il patrimonio ambientale del territorio attraverso la reinterpretazione della flora tipica del parco naturale del San Bartolo impreziosendo il decoro urbano in questa edizione si è realizzata una serie di murales per valorizzare diverse aree tra cui il muro della Darsena che è oggetto di un restauro per la realizzazione della ciclovia il murales di grande impatto visivo ambientale è stato accompagnato da un'opera nel muro privato dell'hotel Marinella realizzato con vernici ecologiche dall'artista romagnolo Manu Burlà dal 28 al 30 di aprile si terrà la seconda edizione delle Rossini Jazz Festival ideato dalla scuola di jazz del Conservatorio Rossini docenti e studenti si ritroveranno sullo stesso palco nell'esplorazione di stili vocali e strumentali eterogenei sede dell'evento sarà il cinema Astra dove a inaugurare il festival sarà un omaggio a Wayne Shorter di Vincenzo Presta a cui seguirà The Golden Age of Modern Jazz progetto di Gianmarco Gualanti ed ora lo sport il primo torneo Kia Energy Slam di doppio misto di tennis organizzato dal circolo tennis Baratov di Pesaro è andato al duo composto da Giovanni Mancini e Anna Pierleoni la coppia battuta in finale Frank Musarra e Federica Pradarelli i vincitori sono stati premiati dal presidente del circolo Baratov Ronni Murrone e da Francesco Boattini della concessionaria omonima che ha sponsorizzato la manifestazione ed ora ci occupiamo della VL che assieme ad uno dei componenti del consorzio Pesaro Basket ha lanciato oggi il progetto Team a Canestro vediamo di cosa si tratta nel servizio di Edoardo Orazzi lo spirito di squadra e di coesione di un gruppo nell'ambito sportivo sono caratteristiche invidiabili da ogni azienda che cerca di progredire sul mercato valori fondamentali sui quali si fonda l'iniziativa Team a Canestro ideata da VL e Huawei brand dedicato alla formazione è presentato oggi nella sede di MAV socio del consorzio Pesaro Basket si tratta di un progetto dedicato al team building pensato per le imprese che intendono migliorare il clima aziendale attraverso delle strategie di gioco che campeggiano nel mondo sportivo il progetto sarà guidato da un coach professionista che è abituato a gestire all'interno dell'azienda la formazione dei vari professionisti noi porteremo la nostra esperienza all'interno dei nostri luoghi dove la squadra cresce e dove la strada si forma cresce e supera le proprie difficoltà ci saranno degli incontri appunto guidati da questo professionista con i manager o altri dipendenti delle aziende che sono interessate degli incontri che svilupperanno appunto i concetti di formazione di un gruppo di gestione dei vari ruoli delle varie responsabilità all'interno del gruppo superamento dei momenti critici all'interno appunto del lavoro di squadra come responsabilizzare al gioco collettivo ed evitare appunto gli individualismi che non portano a un successo della squadra e soprattutto la gestione della leadership all'interno di questi gruppi come riconoscerla come farla accettare e come appunto svilupparla durante una stagione si tratta di un progetto che debutterà nella stagione sportiva 23-24 le realtà aziendali che aderiranno all'iniziativa prenderanno parte a due giornate formative nella pancia della Vitrifrigo Arena sani valori dal mondo sportivo a quello aziendale che verranno trasmessi negli spogliatoi dell'astronave dagli stessi giocatori della Carpegna Prosciutto dal presidente Costa e dal mental coach Riccardo Zuccaro il valore principale su cui vogliamo lavorare è il team working cioè la capacità che ha una squadra di sportiva come appunto la VL di creare team in un periodo molto molto ristretto di tempo e quindi di far capire che la collaborazione nel caso tra i giocatori porta al risultato che è la vittoria della partita quindi la stessa cosa vogliamo trasferirla nel mondo delle aziende perché le aziende adesso si trovano in un momento dove c'è un grande dinamismo quindi persone si dimettono persone vengono assunte e si ha la necessità di creare team in strettissimo tempo per essere competitivi e poter appunto riuscire ad essere vincenti sul mercato di riferimento avere la capacità di avere un team coeso che lavora insieme per il raggiungimento dell'obiettivo che è appunto quello di far sì che l'azienda sia competitiva è un valore enorme quindi che va un po' a superare la logica dell'individualismo e invece a promuovere i valori appunto della collaborazione dell'unità e del lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo mediamente solamente MAV ha 2500-2600 clienti attivi al giorno quindi proporremo a quelle aziende che sappiamo avere questo bisogno questa soluzione in modo che possano aderire e possano appunto partecipare con le loro persone tipicamente sono si parte appunto dalla parte alta quindi del team per poi dopo a cascata andare sotto in modo da trasmettere questi valori e concludiamo con lo sport giocato quello del calcio 5 e quello dell'Ital Service che ieri nella terz'ultima giornata di regular season si è rilanciata nella corsa a salvezza trovando nel turno infrastrittimanale del 25 aprile una vittoria netta e convincente ad Avellino contro la Sandro Abate gli uomini di Colina hanno vinto 7-2 grazie alle doppiette di Tony Dandel Ruana Alflen corredate dalle reti di Gio Miguel, Fortini e Canal tre punti importanti che scacciano definitivamente il rischio di retrocessione diretta e mantengono a viva pure la possibilità di evitare play-out prossima sfida il 30 aprile alle 18.15 a Pesaro contro la Fel di Eboli si conclude qui questa nostra edizione di Rossini News ma non si concludono gli spazi informativi di questa sera perché la prima serata di questo mercoledì alle 21.20 è dedicata ad una nuova puntata di Amministrando il nostro format è dedicato alle politiche locali politiche comunali provinciali e in questo caso regionali come Francesco Baldelli assessore regionale alle infrastrutture che sarà intervistato dal nostro Antonio Astuti in questa puntata di Amministrando che va in onda come ogni mercoledì alle 21.20 e poi tante repliche dal giovedì al lunedì negli orari che vedete in grafica informazione che poi torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini il nostro spazio dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato altra diretta ma di altro genere quella di domani sera come ogni giovedì è il momento di insieme a Canestro è il momento del salotto dedicato alla VL alla Carpegna Prosciutto Basket del nostro Marco Cadeddu che per l'occasione avrà come ospiti l'ex giocatore allenatore Mauro Procaccini e il giornalista disportando Matteo Fattori il tutto sempre con la possibilità di interazione in diretta da parte di voi telespettatori al numero whatsapp dedicato 370 366 7210 insieme a Canestro dunque in onda domani sera alle 21.20 e invece si conclude qui questa edizione della telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi a tutti